Tra i comuni di Orria e Perito sono 11 gli indagati, dopo l'operazione dei carabinieri di Vallo della Lucania, che hanno contestato agli stessi una serie di reati, frode nelle pubbliche forniture peculato, falsità ideologica in atti pubblici, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e di scelta del contraente. Secondo l'accusa, nei due comuni venivano pilotati gli appalti in favore di imprese amiche, affidando i lavori con procedure caserecce, con indicazioni atte a condizionare la scelta del contraente, contabilizzando anche opere mai realizzate. Sembra che dalle indagini risulti indagato un funzionario che lavora per entrambi gli enti civici. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP Sergio Marotta del Tribunale di Vallo della Lucania al termine di una indagine partita nel 2017, condotta dai carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti all'epoca dal capitano mennato Malgieri, scoprendo gravi irregolarità nell'amministrazione dei due comuni. L'indagine partì appunto da perito, a seguito di una serie di segnalazioni da parte di due consiglieri comunali, tra gli indagati, amministratori comunali e i titolari di imprese edili locali.